ma per svuotarsi completamente in modo da non avere più pensieri legati a poter direzionare solo i pensieri focalizzati su quella situazione. Quindi il sesso per Napoleone, il sesso prima della battaglia, era semplicemente per avere poi la mente lucida, non avere poi pensieri che lo distorcono. E questo è un po' il concetto fondamentale. Questo dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale. Noi siamo legati a dei cliché fondamentalmente, perché siamo legati a dei cliché che ci condizionano fondamentalmente. Quindi non è male avere dei cliché, però la cosa importante è saper utilizzare queste credenze, questi cliché per definire un obiettivo, per raggiungere un obiettivo. Quindi una delle cose fondamentali è avere un obiettivo, avere un obiettivo e poterlo raggiungere fondamentalmente, non essere inibiti. Noi dobbiamo, diciamo, mediare tra il principio di piacere e il principio di realtà. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale che dobbiamo imparare a sviluppare. Quindi dobbiamo sviluppare un'attitudine all'eccellenza. E per sviluppare un'attitudine all'eccellenza dobbiamo imparare, ad esempio, a gestire il nostro tempo. È ovvio che le ore di sonno, ad esempio, non sono tempo perso, ma dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale. Che se voi siete pigri e dormite 10-12 ore al giorno, perderete sicuramente, come possiamo dire, perderete sicuramente delle occasioni. C'era quel detto anche, no? Chi dorme non piglia pesci. Per una donna, magari, se dorme non piglia il pesce. Non sappiamo, però, quel proverbio, no? Vox populi, vox dei. Chi dorme non piglia pesci, la pigrizia va eliminata. Una cosa fondamentale, la pigrizia va eliminata. La pigrizia è un'attitudine, è un'abitudine che non ci porta a raggiungere dei risultati. Mai vista una persona pigra che dorme, che ozia tutto il giorno, raggiungere dei risultati. Non esiste. Dobbiamo tenere presente che dobbiamo, diciamo, cercare di pianificare il nostro tempo. Ci possiamo fare tutto, ma possiamo, diciamo, pianificarlo nel modo giusto. Quindi dobbiamo definire degli obiettivi. Io dico sempre definire degli obiettivi smart, specifico, misurabile, accessibile, realmente collocato, temporalmente collocato. L'obiettivo deve definire poi una decisione e un'azione. Cioè, altrimenti le cose non finiscono. Ma questo vale anche nello studio, no? All'università ci sono dei ragazzi che, diciamo, fanno un esame all'anno e si lavorano a 50 anni, per dire, no? Quindi noi dobbiamo invece, ad esempio, chi studia deve darsi dei ritmi, che non vuol dire che non deve divertirsi, ma deve darsi dei ritmi, prepararsi gli esami. Ma come è tutto nella vita, no? Ogni cosa che dovete fare, dovete. Al tavolo degli uberconi e dei pigroni non c'è mai nulla. Esatto, esatto. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo pensiero, decisione, azione. Ma anche l'atteggiamento è fondamentale. Ovviamente anche la postura del corpo, brava Nespola, ovviamente anche la postura del corpo è qualcosa di importante, no? Dobbiamo imparare ad avere una postura che possa essere una postura vincente, che ci possa dare degli ottimi risultati. I pensieri, i sentimenti, le azioni fisiche devono diventare consapevoli. E la stessa cosa che diciamo...